È iniziata a mercoledì 4 settembre 2013, alla stazione di Brisighella, la visita di due giorni in Romagna di una delegazione svedese composta da 26 persone, tra cooperatori e dipendenti della Municipalità e dei centri per l'impiego di Göteborg. Nella prima giornata la delegazione ha visitato il borgo medievale di Brisighella, dove ha potuto anche assaggiare alcuni prodotti tipici di questa località, quali vino e il famoso olio d'oliva Brisighello. A fare da Cicerone per l'occasione è stato Luciano Bassan, uno dei soci fondatori della neonata cooperativa di comunità brisighellese Oltrevalle. Bassan, oltre a introdurre gli ospiti alle bellezze del borgo, ha potuto spiegare nel dettaglio come è nata e quali servizi mette in campo Oltrevalle. Nel pomeriggio, prima di trasferirsi a Ravenna, la delegazione ha fatto tappa alla biblioteca Pasini, dove ha incontrato Carlo Catani, ex direttore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nell'occasione, Catani ha presentato alcuni progetti di cui si sta occupando legati allo Slow Food in Romagna. Nella mattinata del 5 settembre, il gruppo da Göteborg è stato ospitato nel palazzo della provincia di Ravenna. Qui, dopo i saluti di Francesco Rivola, assessore alla formazione professionale e servizi per l'impiego, sono intervenuti Andrea Panzavolta, direttore del settore Formazione, Lavoro e Istruzione della provincia Ravennate, e Massimo Caroli, direttore del Consorzio Fare Comunità di Bagnacavallo. Panzavolta e Caroli hanno presentato e dibattuto, insieme agli ospiti svedesi, circa le attività messe in atto dalla provincia di Ravenna in tema di inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione. In particolare si è discusso del Sihil, un servizio attivo dal 1998 che si occupa del collocamento mirato delle persone disabili e svantaggiate attraverso percorsi di inserimento nel mondo del lavoro. Caroli ha poi proseguito nel presentare il Consorzio Fare Comunità e le attività da esso messe in campo sia in materia di inserimento lavorativo che relativamente ai progetti per la partecipazione dei cittadini, di cui la cooperativa di comunità di Brisighella è un esempio. Trascorsi il pomeriggio e la serata in visita a Ravenna, la delegazione ha fatto poi ritorno a Gothenburg nella mattinata di venerdì, con la promessa di raccontare in patria della bella esperienza in terra di Romagna e l'invito a ricambiare la visita in Svezia. Grazie a tutti.